Le sue imprese erano coinvolte nel piano capitolino Emergenza Casa. La Guardia di Finanza ha sequestrato un patrimonio del valore di un centinaio di milioni riconducibile a Cristiano Guarnera, uno degli arrestati, nell'indagine su Mafia Capitale. Il provvedimento di sequestro riguarda alcune quote societari, tre terreni e ben 178 immobili.